Musica Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Si è interrotto il processo civile avviato per responsabilità professionale contro Mauro Di Giacomo, il fisioterapista ucciso in Via Tauro nel dicembre scorso. La causa era stata intentata dalla figlia dell'uomo arrestato per aver commesso l'omicidio. Entro tre mesi potrebbero però essere citati nuovamente gli eredi. Il servizio è di Linda Cappello. È stata formalmente interrotta la causa civile avviata dalla figlia di Salvatore Vassalli nei confronti del fisioterapista barese Mauro Di Giacomo, ucciso a colpi di pistola il 18 dicembre scorso davanti alla sua abitazione di Via Tauro a Poggio Franco. Il giudice del Tribunale Civile di Trani, Claudio Di Giacinto, ha preso atto del decesso del convenuto e ora si dovrà attendere la decisione della ragazza sulla possibilità di riassumere la causa nei confronti degli eredi. La giovane contestava al professionista di averle causato un danno permanente per via di una manipolazione effettuata sul rachide cervicale il 5 settembre 2019. Il contenzioso rappresenta il movente alla base dell'omicidio commesso dal padre, arrestato il 16 maggio scorso, il quale nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è difeso dicendo che tutto sarebbe staccaturito da una lite degenerata. La figlia ha a disposizione tre mesi di tempo per far riassumere la causa innanzi al giudice e proseguire con la richiesta risarcitoria. E proseguiamo con la cronaca. Inizierà il 2 luglio il processo a carico di 124 persone arrestate lo scorso 26 febbraio nell'ambito dell'inchiesta codice interno sul presunto voto di scambio politico mafioso alle elezioni comunali di Bari nel 2019. La DDA di Bari ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per gli imputati, tra questi l'ex consigliera comunale Carmen Lorusso e suo marito, l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, imprenditori vertici e solidali dei principali clan mafiosi della città come i boss Savinuccio Parisi, Eugenio Palermiti e i loro rispettivi figli Tommaso e Giovanni. A processo anche il padre dell'ex consigliera, l'oncologo in pensione Vito Lorusso. L'inchiesta ha portato alla nomina di una commissione del Viminale che sta valutando in questi mesi l'eventuale scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose dalle indagini emerso che il clan Parisi-Palermiti sarebbe riuscito a infiltrarsi numerosi settori della vita economica e sociale della città. Noi cambiamo decisamente argomento perché si sta tenendo la decima edizione di Banca di Puglia, il più importante evento sui vini bianchi pugliesi, in corso al Fortino Sant'Antonio e ci colleghiamo per questo con la nostra Alessandra Bucci. Ciao Alessandra, chiaramente bianca di Puglia. Ancora non riusciamo a collegarci, allora andiamo avanti e passiamo alla politica. I candidati alla carica di sindaco di Bari hanno avuto un confronto con Confindustria Bari e BAT e diversi rappresentanti dei vari settori dell'associazione industriale. Ciascuno di loro ha ribadito l'importanza di questo incontro per aprire un costante dialogo tra la prossima amministrazione comunale barese e gli imprenditori del territorio. Ce ne parla Giuliana Vendola. Quale sarà il futuro della città di Bari? Che volto economico, imprenditoriale e turistico avrà dopo le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno? Questo uno dei tanti interrogativi al centro del confronto che si è tenuto tra gli imprenditori associati di Confindustria Bari e BAT e i candidati sindaci del capoluogo di regione. Presenti all'incontro i candidati Michele Laforgia, Vito Leccese, Fabio Romito e Sabino Mangano assente Nicola Sciacovelli rappresentato da Nicola Romano. Gli industriali baresi hanno posto svariate domande agli aspiranti alla carica di primo cittadino tra cui quali soluzioni si intendono adottare per la zona industriale che al momento non disporrebbe di infrastrutture e servizi adeguati e ancora come fare affronteggiare i cambiamenti di una città che punta a divenire sostenibile per recuperare il rapporto con il porto e il waterfront puntando anche alla rigenerazione urbana delle periferie. Si è poi parlato di promozione della salute, di crescita della digitalizzazione nella realizzazione di progetti e opere pubbliche. All'ordine del giorno anche il problema del traffico di containers nel porto di Bari in costante crescita, il potenziamento dei servizi turistici e l'impiego dei fondi rivenienti dalla tassa di soggiorno. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di dialogo tra il mondo imprenditoriale e i futuri amministratori della città evidenziando la necessità di una collaborazione molto stretta e continua per il progresso di Bari. E il candidato sindaco di centro-sinistra Vito Leccese ha incontrato questa mattina gli ambulanti del mercato di Santa Scolastica. Vediamo. Un'eccellenza a cui va migliorata però la gestione. Il candidato sindaco Vito Leccese prosegue il suo turno nella città e incontra candidati e simpatizzanti nel mercato di Santa Scolastica nel quartiere Carrassi, creatura di recente realizzazione e che tra i mercati cittadini si posiziona certamente tra i migliori. Animarlo anche oltre gli orari di apertura per farlo diventare un vero e proprio luogo di aggregazione tra le idee del candidato che per farlo intende coinvolgere gli operatori. Prosegue il suo tour nei vari quartieri della città per le strade. Oggi siamo al mercato di Santa Scolastica. Ecco, sui mercati. Santa Scolastica è un'eccellenza nel territorio cittadino. Del resto è il più frequentato a Bari e dovremo cercare in futuro di animarlo anche oltre gli orari di apertura e chiusura, fare in modo che diventi un luogo non solo mercatale ma un luogo di aggregazione cittadina. E lo faremo insieme agli operatori commerciali che hanno qui banchi di vendita. Dopodiché credo che la gestione andrà certamente migliorata attraverso forme di cogestione da parte degli operatori commerciali sostenuti dall'amministrazione comunale. Vittorio Sgarbi, candidato alle europee nella lista di Fratelli d'Italia, ha incontrato la stampa al Caffè d'Arte di Bari. Sentiamo le sue dichiarazioni sul suo programma. Io credo che ognuno di noi, e anche voi a Bari, debba avere delle idee così chiare e non aver bisogno di nessuno che gli dica nulla. E quindi io sono qua come una persona che ha fatto tanto per il meridione, nel senso che ho investito idee e nel Parlamento europeo occorre qualcuno che lo sappia raccontare. La vostra bellezza è una bellezza non solo della grande cultura e civiltà di Bari. Il più grande scultore del 400 italiano si chiama Niccolò Dell'Arche ed è nato a Bari. Quindi io ho sempre avuto la consapevolezza che quello che accade qui aveva a che fare anche con me. E quando incontro le persone vedo che non è che votano Fratelli d'Italia perché è di destra. Al che ho inventato un altro slogan. Fate bene, fratelli. Fate bene. Fate bene, fratelli. Quindi si vota quello che si conosce e io sono conosciuto, quindi non perché sei famoso ma perché si sa quello che ho fatto. Tante volte che sono venuto, tanti incontri che ho fatto, tanti autori che ho scoperto. Scopri una volta in un edificio comunale un dipinto di Roberto Melli che è un bellissimo pittore ferrarese e lo portai in giro, ci sono ancora i giornali. Io sostanzialmente ho fatto cose per cui ho sentito qui un luogo meraviglioso di scoperte. Poi mi chiamarono quando nacque la prima masseria che era quella appunto San Domenico e diedi suggerimenti per fare Borgo Ignazia dove oggi va il G7 o il G8. Poi Porta d'Oriente, questo vuol dire molto. L'altro giorno ho contratto tre albanesi che è bentornato perché io ho una figlia albanese cioè io ho lavorato molto. Mi sono molto rifiuto. Per cui possiamo annettere anche l'Albania e già Edirah mi ha scritto ieri, vi faccio vedere. Perché ha visto... Ora io dialogo con i presidenti del Consiglio e non solo la Meloni. Allora mi scrive perché ha visto il Corriere. Sul Corriere c'era una cosa che forse a voi è sfuggita ma a lui no. Quindi un capo di Stato ci segue. Allora, dice bellissima. Che cos'è? La capra mobile. Ecco. Ecco la capra mobile. Vedi? Da qui, da qui. E cazzo c'è. Ce l'ha? Gira, gira. Bellissimo. Ce l'ha, vedi? Ora, il presidente dell'Albania mi scrive bravissimo. Oh, bellissimo, bellissimo. Ora, questo è un titolo insomma, insomma, la verità. Ora, ecco, in Albania per esempio noi mandiamo i migranti. È una soluzione. Ma potremo anche sviluppare delle spiagge pugliesi in Albania perché se lì si salvano dalle ollie dovremmo delle spiagge bellissime che si specchiano come in un grande lago con quelle pugliesi. Occorrono idee. Qualunque settentrionale che viene da Cilisello Balsamo o da Valdobiadene o da qualunque luogo o da Varese e stai in un posto bello, ricco, tranquillo poi viene qui ed è felice. Va a una masseria ed è felice. Arriva a Bari e cammina ed è felice. Poi questo è un turismo a Bari formidabile. Insomma, io se fossi un elettore di Bari voterei Vittorio Sgarbi barese. Barese, sono qua. Regionalismo e differenzazione e prospettive e rischi sono stati i temi dell'incontro che si è tenuto nel Dipartimento di Economia di Bari per discutere degli impatti dell'autonomia differenziata. Sentiamo. Tra opportunità e rischi continua a tenere banco il tema dell'autonomia differenziata contenuto nel disegno di legge Calderoli. Nel corso di un incontro organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba sono stati analizzati gli eventuali impatti che il testo approvato al Senato in attesa di essere discusso alla Camera avranno sulle singole regioni. Quali potranno essere gli effetti del regionalismo differenziato sull'efficienza e sull'equità del nostro sistema è una delle questioni che stanno alimentando negli ultimi mesi il dibattito politico e civile e alla quale si è provato a rispondere in ambito accademico. Tra le maggiori criticità evidenziate nel corso dell'evento emerge quello sui criteri di attribuzioni delle funzioni pubbliche aggiuntive che ogni regione potrà chiedere al governo. Nel senso che in questo disegno di legge il disegno di legge Calderoli si prevede un procedimento di attribuzione di funzioni di materie di competenze alle regioni senza alcun inferimento al criterio dell'efficienza ma sulla base di un accordo politico tra esecutivi e quindi governo nazionale e giunte regionali che possono decidere di attribuire le funzioni senza riferimento a chi è più efficiente. C'è poi una questione che riguarda un possibile scenario di un'Italia arlecchino come la definisce il professor Peragine con normative diverse da regione a regione con costi enormi per i cittadini in termini di tempo, di burocrazia e adempimenti. Poi c'è un problema legato al finanziamento perché in questo caso si prevede che le funzioni attribuite alle regioni siano comunque finanziate dallo Stato quindi finanza derivata. Ora, lì dove c'è un disalineamento tra potere di decisione e responsabilità di prelievo fiscale per il finanziamento delle regioni si crea il rischio di irresponsabilità. Io credo che ci siano dei rischi che riguardano evidentemente le contrapposizioni nord-sud parti ricche del paese parti meno ricche ma credo che in realtà riguardi non solamente i vari territoriali ma anche i vari sociali che sono anche nelle cosiddette regioni ricche. Io credo che invece il paese possa e debba ancora contare sulla solidarietà, sull'inclusione e sulla coesione. Ce lo chiede l'Europa ma ce lo chiedono soprattutto gli italiani. Terza edizione del convegno Pink & Green il format che dà voce alle donne dell'economia circolare ideato da Green Planner la tappa barese si svolge con il supporto di Uniba. Vediamo. Il presente dell'economia circolare italiana è rosa è più roseo che mai. Lo si legge nello sguardo intraprendente di docenti, ricercatrici universitarie, imprenditrici, manager e designer. Di questo e molto altro ancora si è parlato nel corso del convegno Pink & Green arrivato alla sua terza edizione. Il format di tavole rotonde che dà voce alle imprenditrici dell'economia circolare ideato da Green Planner testata giornalistica che si occupa di sostenibilità sociale e ambientale ha fatto tappa a Bari con il supporto dell'Università di Bari all'interno del progetto Sustainability On Stage finanziato dal MIUR. Vediamo oggi una grande partecipazione da parte dei ragazzi e pienissima la sala convegni. Questa è la chiave di tutto. Noi siamo qui per questo, per avere loro perché noi possiamo solo lasciare qualche traccia. Loro invece lasceranno delle impronte importanti nel futuro, costruiranno il futuro in cui ci sarà soltanto quest'ottica di Pink & Green. Sono 130 le donne di successo che hanno preso la parola dinanzi a tanti giovani raccontando le storie delle loro realtà green, il loro impegno quotidiano e professionale nel creare un futuro di buone pratiche in termini di riuso sostenibile proprio in tutti i settori dell'industria dall'agri-food al fashion alla manifattura nel segno della blue economy che punta all'azzeramento delle emissioni inquinanti. Il ciclo di incontri si è svolto nell'ambito della settimana della biodiversità pugliese e nella giornata nazionale della bioeconomia. Credo che il settore conciario italiano e sottolineo italiano rappresenti veramente un esempio di circolarità 360 gradi e mi fa molto piacere oggi essere qui a questo convegno per raccontare l'impegno delle nostre imprese e soprattutto per dimostrare come la circolarità non è un concetto che deve nascere oggi ma è frutto di ricerche di sperimentazioni che vengono da molto lontano. Per quanto riguarda la moda sostenibile quanto è importante essere donne in questo settore? Sicuramente è importante nel momento in cui io credo che avere una capacità che riguarda il futuro e guardare molto più in là di quello che è il qui ed ora è una caratteristica intrinseca femminile e nel tessile anche l'Unione Europea ci sta dicendo che è assolutamente fondamentale pensare di iniziare a produrre abiti che siano durevoli riparabili e riciclabili e secondo me appunto la parte femminile del mondo ha sicuramente una visione sul futuro molto più costruita e lungimirante di un universo maschile. E allora l'avevamo annunciata prima e la vediamo adesso con lo sfondo di alcune bottiglie di vini bianchi pugliesi per la decima edizione di Bianca di Puglia in corso al Fortino di Sant'Antonio andiamo subito dalla nostra Alessandra Bucci ciao Alessandra buonasera ciao Maricra buonasera a te buonasera a tutti i nostri telespettatori abbiamo alle nostre spalle questo bellissimo tramonto in uno dei punti più suggestivi di Bari siamo in effetti come dicevi davanti al Fortino Sant'Antonio per la decima edizione di Bianca di Puglia io saluto Vito Sant'Eccecele presidente merito dell'AIS Puglia buonasera e benvenuto buonasera decima edizione dicevamo che mette in vetrina i vini pugliesi rigorosamente bianchi parliamo di circa 200 etichette e 70 cantine le chiedo subito quanta strada ha fatto la Puglia in tema di eccellenza vitivinicola negli ultimi anni tantissimo in questo caso parliamo dei bianchi AIS ci ha creduto nella produzione dei bianchi di Puglia tanto che la Puglia produce più bianchi che rossi lo abbiamo scoperto grazie a facendo questi eventi e raccogliendo i dati quindi il territorio di bianchi di Puglia è enorme tantissimo abbiamo una biodiversità che è unica in Italia quindi possiamo proporre sul mercato varie vari vitigni che grazie al Comitato Tecnico Scientifico che non fa altro che raccogliere i dati al CNR che era presente oggi appunto riusciamo a dare l'opportunità ai produttori di produrre biodiversità importanti da esportare da proporre sul territorio ma soprattutto per dare lustro a una regione a un comparto agricolo importantissimo che segnerà sicuramente il tracciato il futuro dell'economia regionale basata sulla sulla produzione vinicola come si degusta un buon bianco? beh si degusta come si gusta un buon rosso insomma si degusta nello stesso modo la possibilità che ha la Puglia di dare questa biodiversità da nord a sud dal mare alle colline della Murgia dei bianchi dei vitigni diversi ma soprattutto così elastici da poterli abbinare in una maniera molto più ampia dai prodotti del mare ma anche ai prodotti della terra e ci sono tante possibilità tanta produzione grazie al fatto che il mondo produttivo mi rivolgo ai produttori hanno creduto nella produzione dei bianchi non solo sulla storica o sullo storico dei rossi di Puglia e il risultato lo stanno vedendo sia come consumo regionale ma soprattutto come esportazione grazie a Vito Sant'Ececere Presidente Merito di AIS Puglia a questo punto non ci resta che provare per capire andiamo a fare una prova delle nuove annate a voi studio mi raggiungerò grazie Alessandra allora noi passiamo a un'altra eccellenza della Puglia la sanità pubblica che porta a casa grandi risultati e riesce a far meglio della sanità privata inglese nella dimostrazione la storia lieto fine di una 53enne di nazionalità sudafricana che dopo essersi sottoposta a mastectomia interventi di ricostruzione del seno a Londra ha scelto di rivolgersi all'istituto tumori di Bari vediamo scoprire di avere un cancro al seno pone i pazienti dinanzi a un drammatico bivio e a dover scegliere anche dove avviare le cure e a quale rete sanitaria affidarsi e l'Italia e la Puglia con il suo sistema nazionale sanitario pubblico in quanto ad oncologia spesso è in grado di operare meglio delle cliniche private inglesi un successo confermato dalla vicenda di Natalie Venter 53 anni sudafricana sottopostasi a mastectomia in Inghilterra e a una ricostruzione della mammella dal valore di 50.000 sterline l'operazione di chirurgia plastica eseguita a Londra non ha dato esiti soddisfacenti dal punto di vista estetico finendo per creare ulteriori disagi psicofisici a Natalie la svolta è arrivata quando la 53enne dopo essersi innamorata della Puglia in vacanza e aver deciso di trasferirsi in un trullo a Ostuni è venuto a conoscenza della realtà validissima delle cure oncologiche pugliesi ed è la professionalità del dottor Maurizio Ressa direttore dell'unità operativa di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari si è così rivolta al nosocomio pugliese per un nuovo intervento di rimodellamento e ricostruzione del seno perfettamente riuscito ma per noi sono interventi di routine questi cioè voglio dire noi viaggiamo sui 700 interventi di ricostruzione mammaria soltanto all'anno ma ci interessiamo anche di ricostruzioni vulvari di ricostruzioni doraciche quindi diciamo la chirurgia plastica è una chirurgia trasversale le professionalità ci sono e sono anche alte professionalità la cosa che ci serve chiaramente per abbattere le liste d'attesa è il personale cioè infermieri altri medici solo così possiamo dare continuare a lavorare bene per il sistema sanitario nazionale ma non facciamolo morire e torniamo dalla nostra Alessandra Bucci al Fortino Sant'Antonio sempre per l'edizione di Bianca di Puglia la decima edizione di Bianca di Puglia perché la vedo in compagnia di due persone Alessandra e sì Marichela come dicevamo prima il vino non l'ho ancora testato però abbiamo due ottimi protagonisti di questa decima edizione siamo in compagnia di Giacomo D'Ambroso presidente dell'associazione italiana sommelier di Puglia e Raffaele Massa invece presidente della sezione di Bari partiamo subito dal presidente pugliese perché si è appena concluso un convegno dal titolo il dire il fare e il mare il mare dove sta? Allora di solito si dice è un detto però diciamo il mare serve alla vicinanza che abbiamo dal mare e dei prodotti che noi riusciamo a fare con il mare ovviamente dire perché in effetti dieci anni fa si parlava solo di vino bianco poi abbiamo seguito il fare i produttori sono stati bravi a produrre dei buoni vini e diciamo il mare perché poi la vicinanza al mare c'è la possibilità di avere dei prodotti che sono diversi a quelli dei bianchi di montagna a quelli che si fanno al nord quindi anche una terra che magari di rossi e di rosati ma anche di bianchi ecco quanto è cresciuta la produzione di vini bianchi nella nostra regione beh i dati che abbiamo dato al convegno diciamo un 10% rispetto all'anno scorso quindi una percentuale alta venendo un po' in calo i rossi però diciamo che inizialmente erano più seguiti i rossi quindi ora stanno tra i grandi bianchi e i rosati e quindi si stanno assestando le stesse percentuali quindi un buon riscontro dei vini bianchi diciamo la Puglia in vetrina per le sue produzioni devo dire che è anche aumentata la cultura del vino in questi anni beh sì assolutamente il vino attraverso un calice di vino si può raccontare un territorio si può interpretare una filosofia produttiva un'idea del vino stesso e nella nostra Puglia una delle caratteristiche è data proprio da questa dal mare quindi dalla dalla salinità che questo trasmette alle vigne quindi troveremo dei vini che saranno assolutamente freschi sapidi molto particolari molto territori molto tipici allora un consiglio con questo tramonto che vino vi consiglia? beh oggi li abbiamo divisi in vitegni quindi possiamo partire dal nord col bombino bianco andare al sud ci sono Negra Amaro Bianchi d'Alessano della Valle d'Itria Chardonnay magari ci sono diversi tipologie diversi bianchi diciamo ogni poi one lover insomma le accederà quello che più gli piace quindi ovviamente non li proveremo tutti no? beh si può provare a provarli tutti perché magari abbiamo anche le sputacchiere però sono così buoni che magari a berli tutti ovviamente non sarà facile allora noi andiamo a brindare per voi grazie a voi studio grazie Alessandra e ancora un weekend ricco di eventi a Bari e provincia agli appuntamenti nella nostra rubrica vediamo lì è più viva che mai dal punto di vista culturale con eventi e concerti pronti ad animare la regione dalla costa all'entroterra dal 23 al 26 maggio torna a Bari la festa dei popoli il festival interculturale che da anni punta a promuovere l'incontro tra popoli e culture diverse quattro giorni di festa con eventi gratuiti musica e no gastronomia spettacoli danze e molte attività pensate per i più piccoli questa 19esima edizione dedicata al tema uomini e donne in cerca di pace si terrà nel giardino Princi Galli quartiere Mungivacca un weekend all'insegna della musica pop perché il palaflorio di Bari il 24 e 25 maggio è pronto a infiammarsi sulle note dei pinguini tattici nucleari il non perdiamoci mica di vista fake news indoor tour vede la band per tutta la primavera 2024 sui palchi dei più importanti palasporti italiani facendo registrare incredibili sold out ancora musica italiana e tanta nostalgia degli anni 80 a gioia del colle dove in occasione della festa patronale arriva Raff il cantante pugliese sarà in piazza plebiscito il 25 maggio con il concerto self control 4T per festeggiare il quarantesimo anniversario di una delle sue hit più famose di sempre concludiamo con un appuntamento imperdibile che promette di mettere d'accordo famiglie e giovanissimi Levante for dopo il successo dell'anno scorso il 25 e 26 maggio nel nuovo padiglione nei piazzali sterri della fiera di Levante a Bari torna l'evento dedicato agli appassionati di fumetti manga giochi da tavolo e cosplay la manifestazione ospiterà stand esposizioni mostre così come quattro diversi arei talk area food e il palco main stage su cui si svolgeranno contesti incontri e grandi concerti e per gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi buonasera Italo buonasera Marie Iclai allora con la salvezza dalla retrocessione in serie C appena conquistata ci sono anche il Bari Calcio e la gestione dello stadio San Nicola al centro delle preoccupazioni di candidati sindaci Vito Leccese Michele Laforge e Fabio Rumito io penso che un sindaco non debba fare il tifoso detto Laforge ma deve sicuramente amministrare i beni pubblici nell'interesse della città è una squadra di calcio è un bene di tutta la città Rumito ritiene invece lo stadio sia un bene di tutti i baresi ma un privato non può prendere dalla città dai tifosi dall'amministrazione comunale e non investire nella squadra mentre Leccese ha detto che dovremo rinegoziare la concessione dell'utilizzo dello stadio San Nicola con la proprietà e rivederla totalmente e chiudiamo dopo quattro mesi di navigazione intorno al mondo Costa Deliziosa è tornata oggi a visitare Bari inaugurando così la stagione estiva della compagnia italiana in totale nel 2024 la nave effettuerà 27 scali a Bari in linea con quelli dell'anno scorso dopo lo scala inaugurale di oggi Costa Deliziosa proporrà quattro diversi itinerari nel Mediterraneo orientale con partenza da Bari tutte le domeniche fino a inizio dicembre che andranno alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni d'Italia Grecia, Croazia e Montenegro bene con questo è tutto per oggi a te buona serata grazie Italo e noi parliamo dei Bari Bari Calcio nel giorno del suo quarantunesimo compleanno il capitano del Bari Valerio Di Cesare ha condotto la sua squadra verso la salvezza in serie B per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore con un gol che resterà a lungo nella memoria e nei cuori dei tifosi bianco-rossi oggi è intervenuto nel corso della trasmissione il bianco e il rosso TB Sport sentiamo un estratto della sua intervista sono felice perché quello che contava era vincere la partita e la salvezza del Bari quella era la priorità poi tutto il resto per me è secondario abbiamo fatto un anno veramente incredibile in modo negativo nessuno se lo se lo aspettava e noi siamo come ho detto ieri i primi responsabili di questo però purtroppo queste annate capitano però l'importante era che che abbiamo salvato il Bari insomma perché significava veramente buttare sei anni perché a parte le polemiche però in questi sei anni penso che si è costruito qualcosa siamo riusciti comunque a sfiorare la serie allo scorso anno quindi retrocedere sarebbe stato un fallimento totale proprio serata perfetta ho fatto un gol che veramente neanche adesso che che lo riguardo è veramente bello 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 non pensavo però è stato molto importante perché ci ha dato il là poi ci siamo come sbloccati per me e adesso passiamo alle notizie che ci arrivano dall'area metropolitana e dalle altre province nel Mar Piccolo di Taranto finalmente il via alle unificazioni delle concessioni per i miticoltori il servizio è di Angelo Ingenito parliamo ancora una volta della miticoltura uno dei settori più antichi e caratteristici di Taranto che sta affrontando diverse difficoltà principalmente a causa dei cambiamenti climatici a ciò si aggiungono una serie di problematiche burocratiche come concessioni tasse adempimenti permessi procedure ecosostenibili abusivismo canoni arretrati e costi di gestione sempre più onerosi tutto ciò ha un impatto diretto su almeno 400 famiglie e sui lavoratori che dipendono legalmente da questo settore si tratta di una situazione allarmante che richiede una riflessione e una maggiore attenzione da parte della politica regionale della Puglia ed in particolare del comune di Taranto per questo motivo è stato istituito presso l'assessorato alle risorse amare di Taranto il tavolo di lavoro della miticoltura un organismo creato spontaneamente dalle associazioni datoriale e dalle parti sociali per condividere un percorso che ponga al centro i problemi della miticoltura il tavolo si riunisce regolarmente una volta al mese nell'ultimo incontro sono state comunicate buone notizie infatti grazie ad un'istruttoria condotta con tempestività e attenzione dagli uffici dell'assessorato alla risorsa mare è stato avviato il procedimento amministrativo per l'unificazione delle concessioni demaniali questo permetterà ai miticoltori che sono stati danneggiati dall'impossibilità di utilizzare pienamente il mar piccolo a causa delle ordinanze regionali che limitano l'utilizzo per motivi legati all'inquinamento di ottenere un risparmio economico molto significativo un'altra battaglia che l'amministrazione comunale sta affrontando riguarda il sequestro dell'area del primo seno del mar piccolo nel tentativo di ottenere il prima possibile il dissequestro di un'area fondamentale per la produzione dei mitili era l'ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata ben trovati da Nico Schiodetto previsioni per la giornata di sabato a livello europeo sempre un'alta pressione un po' defilata in aperto oceano atlantico tra la Normandia l'Irlanda e l'oceano e quindi una vasta zona di bassa pressione sarà molto attiva sull'Europa centrale e interesserà anche parte dell'Italia con fenomeni convettivi del pomeriggio non solo sull'Italia settentrionale ma questa volta anche parte del centro sud e lo possiamo notare con la successiva grafica l'instabilità che entro il pomeriggio interesserà tutta la zona appenninica localmente dei fenomeni si avvicineranno alle zone di mare costiere e poi qualche temporale a spot a macchia di leopardo anche su parte dell'Italia settentrionale temperature massime comunque mediamente tra i 22 e i 27 gradi maggiori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo